Adottando uno stile di vita occidentale, questa scelta aveva incontrato la ferma e dura, anche violenta opposizione della famiglia che è arrivata a sequestrarla e a picchiarla per costringerla a indossare il velo e anche a sposare un perfetto estraneo. Non voleva piegarsi alle regole delle usanze tradizionali del suo paese d'origine, non voleva portare il velo, non voleva sposare uno sconosciuto. Così una ragazza marocchina, residente in un paese della provincia di Messina vicino, Sant'Agata di Militello, è stata vittima di diversi episodi di maltrattamenti da parte dei familiari, della madre e del fratello in particolare. Su disposizione del GIP e del Tribunale di Patti, su richiesta del Procuratore della Repubblica Angelo Cavallo e del sostituto Federico Urban, i due sono stati allontanati dalla casa familiare e per loro è scattato il divieto di avvicinamento alla ragazza. Le indagini sono scattate lo scorso novembre dopo una segnalazione dell'ospedale di Sant'Agata Militello al commissariato di una violenza domestica e danni della ragazza che si era presentata al pronto soccorso con numerosi lividi sul corpo. Alle domande degli agenti, i familiari avevano risposto che se li era procurati da sola, come accaduto mesi prima per problemi personali della ragazza. In realtà, come ha poi chiarito la giovane, entrambi gli episodi erano dipesti dal fatto che i suoi parenti le rimproveravano di avere uno stile di vita troppo vicino a quello occidentale, di non voler indossare il vero islamico e di avere la gravissima colpa di non voler sposare un uomo sconosciuto del suo paese di origine. Sono scattate quindi le intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pedinamenti che hanno confermato le ripetute aggressioni che le veniva impedito di uscire da sola e le erano state sottratte le chiavi di casa per cui, in assenza dei familiari, la ragazza restava in casa con la porta chiusa a chiave. A scatenare gli ultimi episodi di violenza e il fatto che non voleva sposare un estraneo con il fratello che oltre a tirarle i capelli l'avrebbe colpita anche con una scopa mentre la madre l'avrebbe legato le mani con delle corde. La ragazza, agli occhi dei parenti, era una disgrazia per l'intera famiglia perché non rispettava le usanze. Dalle intercettazioni è emerso anche come la ragazza sia stata sottoposta alla cura di un guaritore del suo paese d'origine e poi una parente avrebbe convinto la madre a portare la giovane da un esorcista, dai metodi particolarmente violenti, che avrebbe risolto tutto. Grazie.